Blitz degli agenti della Polizia Municipale guidati dal Maggiore Cauceglia sulla spiaggia del Lungomare San Marco ad Agropoli. Questa mattina alle ore 6 e 30 un cittadino ha postato una foto su Facebook riguardo la presenza di ombrelloni sulla spiaggia libera. Da qui la segnalazione alla Capitaneria di Porto e al Comando dei Vigili Urbani di Agropoli che prontamente sono subito intervenuti per liberare lo spazio pubblico occupato abusivamente. Presenti insieme al Comandante Cauceglia anche due agenti di Polizia Municipale, Carpinelli Jessica e Catanneo Simona per le operazioni di sgombero. Il fenomeno dell'ombrellone selvaggio ormai da tempo sembra non scoraggiare coloro che in barba alle regole continuano indisturbati ed agire senza rispetto alcuno. Le forze di Polizia del territorio continueranno a vigilare nei prossimi giorni e, se necessario, interverranno ancora.